Autofficina Meccanica Urbinello Passione e professionalità che si tramandano di padre in figlio dal 1965 Specializzata in riparazioni meccaniche di ogni tipo su vetture plurimarca Tagliandi e revisioni, manutenzione auto, diagnosi elettroniche, ricarica climatizzatori, assistenza turbine, riparazione cambi automatici Dispone di macchinari di ultima generazione e realizza gli interventi secondo standard di sicurezza e di efficacia E centro specializzato dei marchi Audi, Seat, Volkswagen, Smart, Skoda Inoltre, per le vacanze parti in sicurezza Passa da noi per un check-up ed un controllo completo della tua auto ad un prezzo promozionale Ti aspettiamo in via Miga 136 Taranto Per info 099 330177 338 9963 038